Nasce FACTA, Federico II Against Covid, Task Force, primo organismo multidisciplinare di ricerca sulle conseguenze da Covid-19 dell'Università Federico II di Napoli. L'iniziativa presentata nell'università è partita dalla necessità di comprendere i motivi dell'astenia dovuta dal Long Covid e tutti gli altri problemi che emergono da una malattia del tutto sconosciuta. Così la professoressa Anna Maria Colau. Ci sono delle iperglicemie prima mai diagnosticate e dei problemi tiroidei molto frequenti nei pazienti dopo Covid e questo vuol dire che un'attenzione non solo dell'opneumologo, non solo del cardiologo, non solo del neurologo, ma anche dell'endocrinologo va messa perché qualche dato e qualche cura potrebbe facilitare il paziente nel lungo percorso post-Covid. Confidiamo con il nostro lavoro sinergico di poter offrire alla comunità scientifica nei prossimi mesi degli importanti risultati e ai pazienti un modo di cura, quanto più completo ed efficace possibile, queste le parole del Rettore Matteo Lorito. Dobbiamo affrontare questo problema e dobbiamo anche, come dire, lavorare con la scienza e con la ricerca in un percorso continuo di interazione con quelli che sono i dati. Quindi si partirà da uno studio che è stato approvato anche dal Comitato Etico e andremo avanti in questo modo. Io credo la Federico II sarà in grado con la sua forza poi di proporre davvero delle soluzioni, diciamo, innovative. La casistica dalla quale è partita la Federico II riguarda 580 pazienti in regime ordinario, con una letalità del 7%, tra i più bassi in assoluto, con tassi di sopravvivenza molto elevati proprio grazie alla multidisciplinarietà che subito è riuscita ad arrivare a una quadra della malattia. A parlarcene il professor Ivan Gentile, che assieme alla professoressa Fabrocini e al professor Pivonello per primi hanno avuto la capacità di fare rete e analizzare le varie casistiche problematiche del Long Covid. A volte delle persone hanno un organismo che non riesce a produrre anticorpi perché è un organismo fragile, appunto con immunodeficienza o con malattie croniche. E noi in questi casi possiamo inoculare anticorpi preformati alla persona in modo da proteggere, fargli proprio una sorta di barriera per cui questa persona fragile possa proprio vivere la sua vita. Questo è qualcosa che in America c'è da pochi mesi e in Italia da pochi giorni ed è una conquista eccezionale perché consente alla persona proprio di non ammalarsi di Covid facendo due inizioni all'anno di questi monoclonali preventivi che sarà la nuova frontiera del Covid in questo momento.